Questa è la mia skin Prima di tutto iniziamo a prendere il legno Un 4 pezzettini E un po' forse no Si fermi Mica salve Ho provato un gattino randaggio Posso lasciarlo a voi? Miau Non lo faccio meccanico Bonito oro bambini Vado E' piccola Lasciamelo a potere Comunque vado Continuiamo Odiamo che ne ho un po' di legno Così dopo mi faccio una bella ascia Ed oggi inizio a trovare la mia catapecchia Mi sto dimenticando Basta da se finisce E' piccola Basta da se finisce Saliamo Veniamo qua Facciamo un tag Facciamo un tag Facciamo un ascia E' baaah Poi Allora con questa ascia Spacchiamo La crafting table E' baaah E' baaah E' baaah E' baaah E' baaah Il letto Come si fa il letto Il letto Il letto in generale Il letto in generale come si fa Siamo pagati E' baaah Il letto E' baaah Vabbè Il letto E' baaah Il letto in generale Non è troppo gentile maestro? Perché si dice che ho fatto una nuova? Non è troppo gentile, maestro. Cosa è il momento che Kemero è arrivato in fine, venerabile maestro? Ora dovremo combattere fra tutti, grazie. No, 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 no No, 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 no ok ci vediamo una intanto una bella bella porta porta ok vaga mi sto facendo la porta come tre porte per una dai ma fate cadare ma chi sono l'unico mondo in grado di questa vita sarebbe stato male senza la sua vita addio venerati le dente nessuno si muove il pazzea gorilla allarme di un drago abbiamo gli intrusi l'allievo finisce sempre per superare il maestro forse un giorno sarai più forte e più veloce di me maia il volo per la strada australia stiava il mondo il che gatto è ora di fare le valigie ma non è così ma non è così ma non è così ecco ma non ci vuoi fare ma come una testa non è così sono già le 4 siamo in ritardo So che hai voglia di volare questo gatto, ma non c'è altra scelta, dobbiamo andare. Taxi! L'aeroporto per favore a tutta birra! Mio caro piccolo faina, ho preparato una sorpresa per te. Qui? Una colazione per me! La sorpresa dall'interno. Uh, sì! No! Oh, è un universo che mi abbia mai fatto tanto. E non sarai l'unico a pensarlo. Il grosso modo, questi portagani, in ogni singolo prodotto da supermercato, sarò ovunque. Tutti avranno un mini a fargli compagnie, sarò il loro desiderio e prezzioso. Mi vorranno fare il che sempre è una cosa. Non è il momento di mangiare, in cordo, fa solo il meccato, il lavoro si spetta. Non sopra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Preoccupi volo spesso, io conosco la procedura a memoria. Pronto per passare attraverso lo scambio? Preoccupi volo spesso, io conosco la procedura a memoria. Preoccupi volo spesso, io conosco la procedura a memoria. Preoccupi volo spesso, io conosco la procedura a memoria. Andiamo a dormire Questa cosa La fine serie Se volete Un altro episodio di questa Bellissima serie ragazzi Vedete un bellissimo live Un altro episodio 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 Grazie a tutti. 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 Un'inizio di una serie. Grazie a tutti. Tagliamo il blocco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. 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 Grazie a tutti.